Amici Trevi Meteo, ben trovati. Quella che vedete alle mie spalle è la testa, anche se di testa non sarebbe corretto parlare, di una caravella portoghese. Ora sia chiaro, io non sono né un ozologo né un etologo, sono un meteorologo, però avvistamenti di questi animali sono sempre più frequenti negli ultimi tempi a causa del cambiamento climatico. Quindi facciamo due parole. Intanto non è una medusa, si tratta di un invertebrato, una colonia di quattro polipi che si lasciano trascinare dalle correnti marine e dal vento addirittura perché con una forma particolare la caravella portoghese una parte esce dall'acqua, quella che prima abbiamo chiamato testa, in realtà una vela che appunto sfruttando il vento fa muovere l'intero organismo. Ma sott'acqua guardate tentacoli lunghi anche più di 10 metri particolarmente urticanti e pericolosi anche per l'uomo. Ebbene negli ultimi anni caravelle portoghese sono state osservate anche nel Mediterraneo, non da ieri, cioè da decenni le troviamo, però ultimamente sembra aumentato il loro numero. E perché? Perché il Mediterraneo è caldo, negli ultimi anni è sempre più caldo. Guardate questa è la situazione attuale, la temperatura delle acque attorno all'Italia al momento anche tocca e localmente supera i 30 gradi. Ce ne accorgiamo, se andiamo al mare e mettiamo un piedino in acqua, ci accorgiamo che l'acqua è davvero tiepida. E così specie tropicali sono sempre più frequenti alle nostre acque. Entrano nel Mediterraneo, dallo stretto di Gibiltere, dal canale di Suez e poi si trovano anche molto bene vista appunto queste temperature. Quindi stiamo attenti, però ripeto, nessun allarme, le caravelle portoghese hanno anche questa particolarità di essere abbastanza riconoscibili. Con questo è tutto, ma per altre curiosità anche legate appunto all'ambiente vi aspettiamo su 3bmeter.com Grazie a tutti.